L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, alcune delle notizie degli argomenti di cui ci occuperemo tra poco, la politica ischia verso le elezioni amministrative dell'11 giugno, ascolteremo le dichiarazioni dell'assessore Paolo Ferrandino. Vivara, sabato, l'isolotto riapre i cancelli per le visite, ma non mancano le polemiche. Si è spenta a 109 anni nonna Gemma Migliaccio, la nonnina di Barano, e per lo sport domani turno infrasettimanale di eccellenza e promozione. Tutte fuori casa, tranne il Real Forio che gioca al Salvatore Calise. Di queste di altra cora ci occuperemo, come sempre, tra poco, dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acqua Meno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo, per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolordoppler, TAC multistrato, denta scan, MOC o zonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria, con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Paolo Ferrandino Desiano era solo in cerca di un greggio. L'assessore sul cui nome è saltato l'accordo tra Giosi Ferrandino e il senatore chiarisce Senza di lui siamo più forti. Il centrodestra resta il mio punto di riferimento. Già Lucatrani deve rinviare i suoi sogni di successo. L'isolotto di Vivara riapre i cancelli tra le polemiche. L'amministrazione comunale annuncia le visite guidate nei fine settimana, ma gli eredi di Ana difidano gli enti preposti alla riapertura. Nessuno ci ha interpellato. Calcio Turdon fra settimanale per eccellenza e promozione. Real Forio ospite Real Albanova. In trasferta procede Barano, la nuova Ischia, in casa dello Stasia Soccer. Addio a Gemma Migliaccio, la nonina più longeva dell'isola. Si è spenta all'età di 109 anni. La nonina baranese di origini ponzesi ai nostri microfoni aveva confidato la sua passione per la Coca-Cola. E dopo il telegiornale, l'isola siamo noi ed il rotocalco. Eventi in anteprima TV. Ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Teleischi. Apriamo con la pagina della politica, elezioni amministrative ad Ischia. Ai nostri microfoni l'assessore Paolo Ferrandino, pomo della discordia nell'accordo tra il sindaco di Ischia e Domenico Desiano, analizza il momento attuale delle alleanze fatte. Chiarisce ancora il suo no ad ogni accordo con il senatore Desiano, ma tende ancora la mano a quegli amici del centrodestra che lo hanno già seguito. Conferma la candidatura sindaco di Enzo Ferrandino. E sulla candidatura di Gianluca Trani, Paolo Ferrandino commenta il suo sogno nel cassetto dovrà definitivamente accantonarlo. Sentiamo. Paolo Ferrandino sì, Paolo Ferrandino no. In effetti i vari accordi con Domenico Desiano sono nati e morti proprio sul tuo nome. Cosa mi dici? Mi hanno ritenuto importante. Questo mi gratifica molto perché evidentemente mi tengono in considerazione nell'uno o nell'altro senso. Dico soltanto che praticamente io avevo dato la mia disponibilità e eventualmente si volesse fare intese che potevano non essere da me condivise a potermi anche mettere da parte. Più che a chiederlo loro di estromettermi, ero io che ero disponibile eventualmente a completare loro, i miei amici, situazioni per le quali io non avevo assolutamente né dato la mia disponibilità né la mia condivisione. Peraltro va detto che Domenico Desiano, dopo aver stretto un accordo, anche se poi accordo finale non c'è stato, è passato dall'altra parte con Gianluca Trani per chiudere la candidatura a sindaco. Qui secondo me si è fatto una grandissima confusione perché si è tentato di far passare che eravamo noi alla ricerca di eventuali alleanze senza pensare che erano gli altri che cercavano le alleanze con noi. Quindi questo tipo di parametro ha fatto saltare ogni giusta, opportuna, obiettiva considerazione perché noi non potevamo accedere alle condizioni che altro nel venire a chiedere alleanze con noi ci volevano porre. Questo era il principio. E volevo dire un'altra cosa, che io ero assolutamente contrario, che qualcuno dall'esterno della nostra amministrazione veniva a dirci cosa si doveva o cosa non si doveva fare. È una questione di maturità politica, è una questione di dignità, è una questione di grande incisività nel territorio che noi amministratori da sempre abbiamo e che altri non hanno né conoscenza né possibilità di fare meglio di quello che noi possiamo e dobbiamo fare. Senza il senatore Di Siano siete più deboli? Senza il senatore Di Siano non siamo più deboli, noi siamo più deboli per una Francia di amici che in qualche modo ancora una volta l'ha seguito. Domenico Di Siano ancora una volta, così come già dissi tempo fa, ha pensato di essere il capro del greggio, ha fischiato e molti amici ancora l'hanno seguito come le capre. Mi dispiace, pure per quegli amici ai quali io dico che praticamente c'è ancora margine perché si ritorni a fare quello che già in passato avevamo fatto con il risultato elettorale che c'era stato la volta scorsa. Enzo Ferrandino, candidato sindaco, è ufficiale? Enzo Ferrandino, candidato sindaco, così come stavo andando a sostenere già da parecchio tempo. Probabilmente questo fatto che c'era già il candidato sindaco e non dava la possibilità agli altri di sedersi attorno a un tavolo e decidere anche sul candidato sindaco che ha creato quel distingo, ha creato quella non disponibilità a completare dei quadri e dell'intese. Dall'altra parte Gianluca Trani. Gianluca Trani, tempo fa gli avevo lanciato un messaggio dicendo che per poter fare il sindaco di Ischia c'è bisogno di grandissima maturità amministrativa, di grandissima esperienza. Io l'avevo pure invitato a soprassedere in questa tornata di mettersi a lavorare anche da amministratore per cercare di capire se effettivamente quel ruolo poteva essere alla sua altezza. I mesi invernali sono stati caratterizzati da una intensa attività del circomare Ischia rivolta soprattutto al controllo della filiera della pesca. Numerose le sanzioni elevate e molta alla merce sequestrata. Ma il comandante Alessio De Angelis si è detto soddisfatto per la risposta del settore. Nelle ultime settimane, ha dichiarato il comandante, abbiamo registrato un calo di sanzioni e sequestri. Ciò vuol dire che gli operatori si sono adeguati alle tante norme in materia. Sentiamo. Nella primavera facciamo un bilancio dell'attività della Guardia Costiera di Ischia durante i mesi invernali. Il bilancio per quanto mi riguarda e riguarda la Guardia Costiera sull'isola posso ritenere assolutamente positivo. Abbiamo terminato l'anno 2016 con un'operazione complessa a pesca che ci ha portato alle elevazioni di diverse sanzioni comunque a evitare problematiche particolari e devo dire che la risposta del territorio, degli esercenti del territorio è stata positiva. Quindi abbiamo avuto un calo in termini di sanzioni, attività di sequestro. Questo vuol dire che comunque c'è un andamento positivo e gli operatori del settore rispettano ancora di più le norme, le tante norme di settore. Si è spenta l'età di 109 anni nonna Gemma Migliaccio, la nonnina baranese di origini ponzesi. Aveva tagliato il ragguardevole traguardo dei 109 anni lo scorso 9 gennaio in compagnia di familiari ed amici. Ai nostri microfoni aveva confidato la sua passione per la Coca-Cola che non doveva mai mancare la mattina e la seda. Ma vediamo un breve stralcio dello speciale che realizzammo in occasione proprio del suo compleanno. Sei contenta che sia arrivata a 109 anni? Sei contenta? Eh, ecco, quello che vuoi dire sarà. Qual è il suo segreto? Il mio segreto? Eh, non è nessun segreto. Parlo a che se t'ha, quello tiene un segreto? No, ancora il segreto. Non c'è nessun segreto. Niente. Quale sarebbe questo segreto? Per arrivare a questa età? Una vita tranquilla? Tranquilla. Poi? Pacifica. Una vita pacifica. Una vita senza pazienza. Grazie, grazie signora che mi ha mandato questa donna che mi sta attento, mi vuole bene, ma un bene straordinario questa donna. Cosa manca? Eh, tutti i giorni noi che mangiamo? Dicci del sugo. No, tu ci ha detto, noi. No, ci ha detto sì. Eh? Allora, le dice pasta, pescella e pasta, ceci. Un bello cuniglia cacciatore. Riso. 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 Riso al sugo. Un bello cuniglia cacciatore. Un bello cuniglia cacciatore. L'isolotto di Vivara riapre i cancelli. Dall'8 aprile tornerà ad accogliere visitatori e turisti dopo anni di interdizione. A questa notizia fanno eco gli eredi Antonio e Francesca Diana, beneficiari della sentenza della Corte di Appello del maggio 2015 che li riconosce universalmente proprietari dell'isolotto di Vivara. Non siamo stati coinvolti nelle procedure, dicono, diffidiamo tutti gli enti preposti da riaprire l'isola senza aver stilato un'intesa con la proprietà. Dopo contatti avuti con il sindaco di Procida e l'assessore Carannante, eravamo in attesa di essere coinvolti come da loro auspicato per le attività relative alla nostra condizione di proprietari. Intanto gli eredi di Diana diffidano tutti gli enti preposti da riaprire l'isola senza aver stilato un protocollo di intesa o di una convenzione con la proprietà. Il nostro auspicio, dicono, è che d'ora in poi chi voglia immaginare un futuro per Vivara si confronti con i suoi neoproprietari. Sulla vicenda interviene il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. In merito alle dispute legali su Vivara, l'amministrazione comunale di Procida ha avuto modo anche di incontrare i signori Diana, che dal 99 reclamano la proprietà dell'isola. Tuttavia, dice il sindaco, le rivendicazioni di parte non possono, secondo l'attuale stato del procedimento giudiziario, tradursi in un impegno per la nostra amministrazione pubblica. Ed intanto sulla riapertura di Vivara interviene anche il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli. La riapertura di Vivara, commenta Borrelli, rappresenta un sogno che si abbera per tanti ambientalisti. Saremo felicissimi di partecipare in prima persona alle prime escursioni sull'isolotto, per cui in tanti si battono da decenni. Torno a questa sera, nell'ambito della trasmissione L'Isola siamo noi dopo il telegiornale, l'appuntamento con le delizie di Daniela. In vista della Pasqua, Daniela Scotti ci presenta una squisita ricetta della colomba. Seguirà il consueto appuntamento con la storia a cura dell'avvocato Giovanni Di Meglio. L'Isola siamo noi, ma in onda dopo il telegiornale alle ore 21.10 circa. E siamo all'ampia pagina sportiva, il campionato di eccellenza. Domani pomeriggio andrà in scena il turno infrasettimanale nel campionato di eccellenza. Fischio all'inizio previsto per tutte alle ore 16. In trasferta Procida e Barano, Alcalise, Real Forio, ospita il Real Albanova. Sentiamo. Domani pomeriggio andrà in scena il turno infrasettimanale nel campionato di eccellenza. Il fischio d'inizio è previsto per tutti alle ore 16. Sarà la ventottesima giornata, dunque la terz'ultima partita della stagione regolare. Dopodiché avranno inizio play-out e play-off nel mese di maggio. Obiettivo stagionale ormai già raggiunto dal Real Forio, mentre ancora tutto da vivere il finale di campionato di Procida e Barano. Si giocano tanto soprattutto i biancorossi. Da quando è arrivato Mandragora, il Procida continua a macinare punti e record. Sono saliti a 15 risultati utili consecutivi. Il Procida ora è quarto, ha più uno sul San Giorgio con tre partite da giocare. La prossima sarà quella di domani con il Casagiove. Poi, dopo la sosta, che sarà utilissima per recuperare le energie, toccherà Casanova e Mondragone. Ed entrambe, quasi sicuramente, non avranno più nulla da dire al campionato. Più complicato è il calendario del San Giorgio, che domani affronterà il Mondragone, praticamente già salvo. Poi Barano e soprattutto a Fragolese. Per la gara con il Casagiove, Mandragora dovrà rinunciare a Michallo, squalificato e sperandeo infortunato. Assenze importanti sì, ma difficilmente ci saranno colpi di scena. Continua l'incubo per il Barano. Nonostante tutto, gli aquilotti dovrebbero riuscire a centrare la salvezza diretta. Ma quanta fatica stanno facendo i bianconeri in questo girone di ritorno. Sette sconfitte e cinque pareggi, molti dei quali arrivati al novantesimo. Ci vorrebbe un po' di fortuna in più. È comunque pur vero che in realtà il Barano non è poi così sfortunato. Riuscire a salvarsi direttamente con circa 30 punti e vincendo appena una partita, l'ultima con il Casagiove, ma potrebbe anche non servire, è già di per sé un qualcosa che non capita tutti gli anni. Domani pomeriggio il Barano sarà impegnato in una difficile trasferta in quel di Brusciano sul campo della Mariglianese, a cui basterebbe anche solo un pareggio per salvarsi. Un pareggio che tornerebbe utile in realtà anche al Barano, visto che il Pimonte ospiterà la Fragolese e difficilmente riuscirà a fare risultato. In quel caso, con il pareggio, sarebbe salvo anche la squadra di Billone Monti, il quale tirerà un sospiro di sollievo, senza però potersi ritenere soddisfatto di quanto fatto dalla sua squadra nel 2017. Dopo la sosta, nelle ultime due giornate, gli Aquilotti ospiteranno prima il San Giorgio e poi chiuderanno il campionato in casa del Casagiove. Domani, mister Monti non avrà a disposizione gli infortunati a Curso, Cantelli e Savio, Sirabella e Trani sono indisponibili, Billoncino Monti squalificato per due giornate. Mister Monti, invece, nonostante l'espulsione, è stato solo ammonito dal giudice sportivo e potrà quindi essere in panchina. Il Real Forio, ormai già salvo, infine sarà l'unica squadra a giocare sull'isola domani pomeriggio. Al Calise arriverà la Real Albanova e soprattutto ritorneranno i tifosi dopo due gare disputate ingiustamente a porte chiuse. Turno infrasettimanale domani anche per la promozione. La nuova Ischia è infatti ospite dello Stasia Socher. Sentiamo. Turno infrasettimanale anche nel campionato di promozione. La nuova Ischia, domani pomeriggio alle ore 16, affronterà in trasferta lo Stasia per la 28esima, nonché terz'ultima giornata. Il giallo-blu, nonostante i brividi causati dall'Ottaviano domenica scorsa, grazie ai tre punti conquistati, continuano a restare scia alla capolista Sibila Bacoli, che proprio contro lo Stasia domenica non ha sbagliato. Resta in corsa anche il Monte di Procida, sempre a meno uno dagli schitani. Perde terreno invece l'Afro-Napoli United, sconfitto dal Rione Terra. E sarà proprio l'Afro-Napoli il prossimo avversario del Bacoli Sibilla, una partita dall'esito per nulla scontato. Anche per questo motivo la nuova Ischia contro lo Stasia non può proprio sbagliare. Con tre partite da giocare e quattro punti di distacco dal Bacoli, il sogno di raggiungere il primo posto non è impossibile. C'è però da difendere comunque la seconda posizione e in ogni caso per farlo servirà una vittoria. La squadra di Sidoro Di Meglio sembra essere tornata quella di un tempo e con un Gianluca Saurino in più tutto potrebbe diventare più semplice. Il bomber ex Real Forio, dopo infortuni e squalifiche varie, finalmente ha la possibilità di scendere regolarmente in campo e di dare una mano importante ai compagni. Da quando è tornato, in due partite, ha segnato già tre gol. Meglio non poteva fare per il finale di stagione, però c'è bisogno del contributo di tutti i calciatori, anche perché non saranno partite facili, quelli contro Stasia, Afro-Napoli e Santa Maria la Carità. Per la partita di domani, mister Isidoro Di Meglio dovrà rinunciare allo squalificato Silvitelli. Rientrerà invece dalla squalifica Ciro Saurino e sarà a disposizione pure il giovane Enrichiello, che ritorna ad essere convocato dopo i problemi alla schiena che lo hanno tenuto fuori per diverse settimane. Buone notizie che fanno ben sperare per questo finale di stagione. Nulla è ancora detto, può succedere di tutto e la nuova Ischia deve crederci, fino alla fine. L'ultima moda, infatti, di sport sull'isola d'Ischia è l'arrampicata. L'artefice della rocciamania si chiama Pepito Morgera, un dinamico ragazzo di Casa Micciola, che dopo aver imparato la disciplina in terraferma, l'ha portata anche sull'isola d'Ischia coinvolgendo vari amici. Ne è nato il gruppo Ischia Verticale, che ha già attrezzato nel bosco di Zaro a Forio una parete per l'arrampicata, dove varie persone in questi mesi si stanno cimentando con la roccia. Tra i prossimi appuntamenti di Ischia Verticale ci sono due giornate di lezioni di arrampicata con guida alpina, che si terranno il 22 e il 23 aprile. Ma scopriamo qualcosa in più del gruppo Ischia Verticale e del brivido dell'arrampicata. Vediamo. Ci troviamo a Zaro, dove c'è la sede di allenamento dei ragazzi di Ischia Verticale. Ischia Verticale è un gruppo per l'arrampicata e qui a Zaro infatti è stata attrezzata una roccia proprio per la scalata. Allora parliamo con il presidente di Ischia Verticale Pepito Morgera e con Fiorella Mendola che ci spiegano come è partita questa avventura. L'avventura è partita inizialmente per... noi pratichiamo questa attività da diversi anni. Abbiamo sentito l'esigenza a un certo punto di cominciare ad allenarci qui a Ischia senza spostarci tutti i fine settimana, quindi abbiamo trovato a lungo, abbiamo cercato della roccia buona e abbiamo localizzato queste pareti qui di Trachite all'interno del Bosco di Zaro, le abbiamo attrezzate, messe in sicurezza e adesso le utilizziamo come una vera e propria palestra all'aperto per noi inizialmente. Poi abbiamo pensato comunque di aprire un po' a tutti, dare un po' la possibilità a tutti di praticare questa attività, quindi di venire qui con noi ad allenarsi e di cominciare ad approcciare all'arrampicata. Allora, stanno venendo le persone, i ragazzi? Sì, 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 stiamo coinvolgendo sia le persone di Ischia, quindi stiamo coinvolgendo sia i bambini, i ragazzi, anche persone un pochino più adulte e anche dall'esterno molti amici ci vengono a trovare e quindi rimangono incantati proprio per il posto e anche per il tipo di roccia che è un po' diverso rispetto a quella che puoi trovare fuori e quindi siamo molto contenti. Chi dice che arrampicarsi è una cosa pericolosa? Pepito, cosa rispondi? Ma dipende dal tipo di arrampicata innanzitutto. Questo tipo di arrampicata che facciamo noi è un'arrampicata sportiva, è un'arrampicata fatta su itinerari abbastanza sicuri, quindi messi in sicurezza, disgaggiata la roccia, ancoraggi certificati, quindi messi anche molto ravvicinati. C'è sempre una minima componente di rischio, insomma, componente di rischio c'è sempre, però è molto ridotta. Pensiamo che gli incidenti del calcio sono maggiori di quelli dell'arrampicata, quindi il rischio c'è, ma non è assolutamente uno sport così estremo come viene visto dall'esterno. Neanche un attimo di pausa per l'Olympic Judo Forio. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a Gianno dell'Umbria e alla gara regionale del Lazio, i judo caforiani sono ritornati in gara la scorsa domenica. A Pagani si è svolto il torneo di judo Città di Pagani, una gara Ficilcam per esordienti. La carovana dell'Olympic Judo Forio a Pagani si è presentata con un gruppo di circa 40 persone, composta da 18 atleti e per il resto da genitori. Su cinque partecipanti dell'Olympic Judo Forio, tutti e cinque hanno conquistato una medaglia. Oro per Maria De Girolamo, Gianfranco Trani e Claudio Carta, argento per Giusi Amalfitano e bronzo per Ciro Borrelli. Per fanciulli, bambini e ragazzi è stato organizzato un percorso misto di tappe di sumo, lotta in piedi a terra per poi terminare col judo proiettando delle cinture nere. Al termine della manifestazione tutti hanno ricevuto una medaglia. La difesa della famiglia, nucleo della società. Se ne è parlato nel corso di un incontro, sabato scorso all'hotel Re Ferdinando di Ischia, organizzato dal movimento Il Popolo della Famiglia. Vediamo. A Ischia una iniziativa per la difesa della famiglia. Perché parlare di famiglia oggi? Avvocato Amato. Perché la famiglia, come diceva Aristotele e Cicerone, è il nucleo della società, è la cellula della società. Quindi è un elemento fondamentale. Mettere a rischio la famiglia significa mettere a rischio il tessuto sociale. Ma che cosa è minacciata in effetti oggi la famiglia? È minacciata dal tentativo di disintegrazione ed è un'operazione di potere. Il potere vuole eliminare anche quell'ultimo piccolo angusto spazio di libertà tra l'individuo appunto del potere. E quindi rendere un individuo solo e soprattutto manipolabile. C'è il rischio, e lo stiamo vedendo anche a livello legislativo, di considerare la famiglia come una costruzione socio-giuridica che si può cambiare, modificare, manipolare. Non è così. La famiglia è un dato oggettivo di natura che precede lo Stato. Quindi non può essere oggetto di alcuna manipolazione. Avvocato Buonaiuto. E quindi come difenderla? Sicuramente iniziando a parlare di famiglia anche nelle sedi opportune. È necessario che tutte le persone di buona volontà decidano anche nell'ambito principale che è quello della politica di iniziare a difenderla, di iniziare a parlare di famiglia. La famiglia è un regolatore sociale. Noi abbiamo un ragazzo su cinque, un giovane su cinque con problemi psicologici. Abbiamo l'Eurispes che ci ha parlato di dati di devianza giovanile terribile, la funzione educativa della famiglia. Bisogna alzarsi in piedi, come diceva San Giovanni Paolo II, e dobbiamo cominciare nelle sedi opportune a difendere la famiglia. Se difendiamo la famiglia, la famiglia naturale, salviamo questo Paese, anche da un punto di vista economico. Da qui la necessità di andare in giro e di incontrare gente? Da qui la necessità, ormai da un anno, dopo le due grandissime piazze, il Family Day, che hanno visto oltre un milione di persone, nonni, bambini, mamme, persone anziane, truppe non cammellate, addirittura non sponsorizzate neanche dalla Chiesa. Da qui la necessità di andare persona per persona, gruppo per gruppo, amico per amico, associazione per associazione, per parlare della famiglia. Però, ripeto, non è solo un problema etico. Voi difendete la famiglia, siete contro le pietà. È un problema sociale. Per ripristinare questo Paese, per ridare slancio alla vita, un Paese dove non si nasce più, per ridare spazio alla rieducazione dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, sempre più disorientati, sempre più schiavi del consumo, e per ridare slancio all'economia. Pensate alla proposta del povero e della famiglia sul reddito di maternità, che è uno stravolgimento antropologico incredibile. Una donna che decide di poter stare a casa, a crescere i suoi figli, e lo Stato la aiuta, ma non con un bonus, non con qualcosa. È uno stravolgimento dell'economia. Pensate il PIL come crescerebbe. Ed ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. ...con possibili fiovaschi. Revisioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate, annudi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In montagna, nubi e schiarite, con possibili fiovaschi. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto all'Isola siamo noi e noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci. Grazie a tutti.